bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di super robot wars 30 allora dobbiamo sfoltire un po un po le missioni quindi mo penso di fare a cacchio tanto non c'è niente ma quindi una missione senza storia perfetto niente di particolare allora vediamo un po 23 24 ok questo è il 22 22 22 22 22 22 allora siccome nello spazio dovresti mettere il genere dello spazio un po Grazie a tutti. Ok. Bisogna ammazzare i nemici. Semplice. Vediamo quanto sono. 21. Perfetto. Grazie a tutti. 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 E' bello, è bello, è bello, è bella sta animazione. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,, Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! a tutti! a tutti! Grazie a tutti! 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 ! a tutti! a tutti!